Si parla spesso dell'importanza del bicchiere, della capacità di abbinare il bicchiere giusto allo stile giusto per valorizzare al meglio la propria birra e approfittare di questa birra particolare, una vera chicca dal Belgio, proprio per discutere l'importanza del bicchiere e di come questo va da modificare e alterare la percezione organoletica che abbiamo di una birra. Partiamo come sempre dalla scheda tecnica di questa birra, appunto come anticipato siamo in Belgio, Brasserie Le Grand Poisson, il nome di questa birra è la Dory o Dory Grand Cru, Stile è mutevole, categoria 132D del BJCP di Canto, grado alcolico variabile, il formato di questa bottiglia è appunto una bottiglia in vetro da 50 cl, prezzo 12,34 euro, acquistata presso un beer shop online. Il bicchiere è appunto variabile, adesso vedremo perché, e no, non si tratta di un primo assaggio. Allora, come indicato appunto nella scheda, non c'è un bicchiere preciso per questa birra perché il tipo di bicchiere andrà a modificare completamente la tipologia e appunto tutta l'analisi dei flavor organoletica di questa birra. Ma come al solito partiamo dall'estetica della bottiglia, come vedete questa è una bottiglia abbastanza costosa ovviamente e come molte birre diciamo un po' di qualità ha anche un involucro molto prezioso, in questo caso vedete in carta. La carta è appunto una carta riciclata, tra l'altro si possono notare anche delle piccole macchioline di presumo pomodoro o comunque qualche altra verdura appunto qui sull'involucro esterno e all'interno non c'è alcuna etichetta. I bicchieri che vedete qui ho messo questo piccolo sfondo azzurro per praticità, proprio per farvi vedere come appunto cambia la birra versata in bicchieri diversi. Ho scelto questa birra proprio perché ha la particolarità di mutare non solo nell'aspetto diciamo aromatico, se versata in bicchieri diversi, ma cambia completamente stile. Infatti questa birra è particolarmente apprezzata proprio perché in base al bicchiere in cui viene inserita appunto, essendo uno stile mutevole, diventa una birra di quello stile. Infatti in questo caso ho messo una coppa tipicamente utilizzata per le Strong Ale, per le Quadruple, ho messo un classico Pils e una pinta americana. Versando la birra in tre bicchieri differenti, quindi la birra riconosce il bicchiere all'interno della quale è stata versata e appunto muterà per assumere quello stile. Bene, direi che appunto possiamo aprirla e appunto versarla. Tolgo il tappo dorato, allontano un attimino appunto il prezioso involucro dalla bottiglia. Ok, cominciamo quindi a versarla prima nel bicchiere appunto delle Quadruple. La versiamo anche nel bicchiere appunto delle Pils. E la versiamo infine anche appunto nell'ultimo bicchiere, che è un bicchiere per, in questo caso, birre inglesi, presumibilmente immagino si trasformerà in una bitter. Ok, vedete che già appunto la birra, adesso man mano che la schiuma si compatta, assumerà le colorazioni, poi ovviamente anche i flavor corrispondenti a quello stile. Ok, ho fatto un piccolo rabbocco su questa qui perché è quella delle Quadruple, che sapete è il mio stile preferito, quindi vorrei berla un po' più in versione Quadruple rispetto alle bitter o alle Pils. Ovviamente non sono riuscito a versare completamente, cioè a riempire completamente i bicchieri perché appunto per questa dimostrazione ho cercato di dividere il mezzo litro in tre bicchieri differenti, però vedete appunto che già le caratteristiche cambiano. Mi ha colpito, devo dire, la cosa è un po' strana, che nella bitter ci sia tutta quella schiuma, però potrebbe essere che la birra non abbia ancora capito perfettamente dove si trova e adesso man mano si adatta e assume quindi tutte le caratteristiche organolettiche di questo stile. Partiamo però dalle Quadruple, che sono appunto queste, è il bicchiere che ho davanti, è il più vicino. Sicuramente il colore appunto è un colore da Quadruple, la schiuma sì è un po' abbondante, però color nocciola perfetto e anche al naso i sentori sono proprio quelli tipici delle Quadruple, quindi dal caramello sicuramente c'è una buona parte dei malti, un filo di liquirizia in fondo, puoi ricordare insomma, per intenderci siamo su Rochefort, comunque quella tipologia di birra. Come detto appunto le Pils, anche in questo caso, come dicevo prima, c'è un po' poca schiuma per il fatto che non avevo abbastanza birra per fare tutti e tre i bicchieri, però appunto le caratteristiche sono della Pils, una schiuma comunque abbastanza persistente e anche al naso. Sì, forse al naso sembra un po' giovane, direi più una Pils, o una Pils giovane appunto, o forse una Pils cieca, cioè quel filo di acetile, però tutto sommato anche al naso appunto ricorda chiaramente quello stile. E ci spostiamo appunto su questa strana Bitter, che in effetti mantiene tanta schiuma per essere una Bitter, sì al naso comunque tutte le caratteristiche sono tipiche di una Bitter. Sì, anche in bocca direi che è sicuramente una Bitter, è strano questo, un po' appunto appunto questa schiuma così importante, però sarà un caso di questo batch, di questa cotta. Questa appunto era la Dorie Grand Cru, torno però alla quadruple per il saluto finale, scolla. Grazie.